Allora, professor Pasquino, per Salvini, questo è il governo che ce l'ha con le merendine, il governo che ce l'ha con i crocifisti, è il governo che ce l'ha pure con i tortellini tradizionali. Adesso poi qui mi rifaccio alla sua competenza, perché adesso c'è tutta la polemica sui tortellini con il pollo e sono veramente curiosa di sentire la sua opinione. Prego, professor Pasquino, stavo chiamando Salvini, mi sento male. Prego, professor Pasquino. La premessa è che Salvini di arroganza e di ignoranza è un grandissimo intenditore, e che la crisi di governo lui l'ha fatta con arroganza e con ignoranza delle conseguenze che lo hanno poi visto estromesso dal governo.